Tutti i colori del Covid. Il Veneto, lasciata la fascia rossa, è in arancione ma già punta alla zona gialla. Lo dicono i numeri, lo annuncia Luca Zaia. Noi abbiamo dei dati macro proiezioni 0,96 di R con T da confermare e 1,168,4 di incidenza. Stiamo calando. Potremmo anche dire che abbiamo i dati da zona gialla in questo momento, perché siamo sotto l'1, quindi 0,96 è sotto l'1, quindi in teoria noi potremmo essere una zona gialla. Il Veneto potrebbe essere in fascia gialla, ma l'Italia per decreto è arancione o rossa fino al 30 di aprile, salvo modifiche dettate da condizioni epidemiologiche particolari. Le prossime settimane saranno decisive e il mese di aprile si annuncia in trincea. Il tema è che ne dobbiamo venire fuori, il tema è che dobbiamo arrivare al giro di Boa e iniziare la discesa. Ormai un po' lo conosciamo questo Covid, no? Ci è abituato a queste curve che salgono, salgono, poi si stabilizzano e scendono. Non sappiamo quando raggiungeremo il plateau, abbiamo delle proiezioni. Di certo il mese di aprile, come si può dire, lo facciamo un po' tutto in trincea.